I primi giochi Pokémon che sono arrivati in Italia erano in spagnolo Io ci ho giocato in spagnolo a Pokémon Stadium E siccome il commentatore è fighissimo in spagnolo Perché è tutto infoiato e tutto... Cioè, senti come fa? È tutto tipo... Cioè, golpe cuerpo Cioè, io predicto, gli metto Articuno perché dico Tanto farà terremoto E lui fa corpo scontro Vabbè Ai 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 Non a che serve predictare Sei più giovi in ciel Vabbè, non ti preoccupare Ciccio Entro con Draven e ti faccio surf Cioè, non è assolutamente un problema Cioè, guardate Allora, io... Cioè, la truffa del computer Io predicto Dico, metto un volante perché farà... Perché lui farà un attacco terra No! Lui non fa un attacco terra Fa corpo scontro Mi paralizza Paralizzandomi Sono più lento Quindi, può farmi perforatore Perché sono più lento Può farmi perforatore Perché sono più lento E poi Gli entra anche il 30% di perforatore Cioè, tu devi vedere Che truffa il computer Che truffa il computer Che truffa Che truffa Che truffa Che truffa Che truffa Mamma mia Che truffa Sono inorridito Inorridito Mamma mia Cioè Veramente indecente Questa cosa qua Veramente indecente Grazie a tutti